Buonasera Roberto Traverso, segretario del SIAP, sindacato di polizia, grazie. Allora, il codice rosso è uno di quei temi di cui, come dire, secondo me poco si parla, si parla un sacco di violenza di genere, questo purtroppo anche perché è spesso al centro delle cronache giudiziarie della nostra quotidianità, le violenze sulle donne, ma diciamo c'è tutto un tentativo da parte delle forze dell'ordine di strutturarsi per rispondere in modo più efficace. La domanda per cominciare è brutale, funziona il codice rosso? Lo strumento giuridico è sicuramente valido, chiaramente va adattato anche alle situazioni che purtroppo diventano sempre più importanti, ma a livello nazionale sicuramente va adattato giuridicamente, ma comunque è uno strumento che è risultato efficace. Il problema è che è uno strumento che deve seguire delle regole ben precise, con delle tempistiche stringenti ed è per quello che noi riteniamo che bisogna, come diceva lei, parlarne non solamente nel momento in cui si verificano i fatti gravi, femminicidi, violenze, che chiaramente creano sgomento, preoccupazione, allarme, come giusto che sia. Bisogna questo strumento curarlo, preservarlo e quindi va affrontato il problema localmente, perché a livello nazionale il problema è evidente e si cerca, ripeto come dicevo prima, di modificarlo per migliorarlo, ma poi il problema è chi lo mette in atto questo strumento. E il problema è che da un lato, come giusto che sia, c'è la società che dove riesce a penetrare, invita le donne che sono oggetto di violenze a rivolgersi giustamente a chi deve dare una risposta e quindi invitarla a andare dove? Ma andare dalla polizia, dai calabinieri, dalle forze d'ordine per denunciare questa violenza. E poi il problema sta lì, bisogna che poi chi deve mettere in atto questo procedimento sia pronto a metterlo in atto in modo adeguato. Cosa manca perché questo venga? Le risorse, è vero che sono poche sul territorio, ma a noi quello che dà fastidio è quando localmente ci si nasconde dietro il problema delle risorse umane, perché è un problema nazionale. Poi bisogna che chi governa queste risorse lo faccia in modo adeguato, perché a Genova, che poi vado a focalizzare il problema, a Genova ci si nasconde un po' troppo dietro questo problema delle risorse, è vero c'è, però quelle risorse che ci sono devono essere calibrate per le priorità. Il codice rosso è una priorità. L'ufficiale di polizia giudiziaria è dentro più nel tecnico, che è quello che poi ha la delega dalla procura per attivare appunto quella procedura, ha dei tempi stringenti, obbligatori e quei tempi vanno rispettati, sono dei tempi tecnici che devono essere rispettati e non possiamo permettere che quei lavoratori, quelle lavoratrici, ufficiali di polizia giudiziaria, dei poliziotti, ma questo vale anche per i carabinieri, per tutti coloro che svolgono questa funzione, vadano in difficoltà e si espongono professionalmente per colpa di chi non sa gestire queste risorse. Cioè quindi, ripeto, è una battaglia che portiamo avanti a livello locale, consapevole dell'importanza nazionale del problema, ma ripeto, un questore come quello diceva... E c'è poca sensibilità da parte della questura? C'è poca sensibilità, ma questo è un problema che dovremmo andare a affrontare col prossimo questore, perché ormai questore è in uscita, perché mancano pochi mesi, quindi a fine marzo avremo un nuovo questore. Quello che noi purtroppo attribuiamo a questo che c'è è che non ha voluto gestire in modo, come dire, no, oculato con le poche risorse che ci sono. Il codice rosso è una priorità come ce ne sono delle altre. Però non possiamo accettare, e quindi per quello noi gli stiamo tutelando questi lavoratori, che si trovano in difficoltà, perché poi facciamo gli esempi, se in un commissariato, dove si affaccia una donna che ha subito delle violenze e gli operatori che svolgono quella mansione sono pochi o addirittura unici, unici. Questo è un problema che non vediamo solamente noi, lo vede anche... Cioè c'è un solo ufficiale che si occupa di questo? Uno che magari in quel momento deve anche fare altre cose, siccome è una cosa molto delicata. Poi ripeto, il territorio genovese è un territorio complesso, perché è articolato, si espande territorialmente. Però faccio un esempio, un commissariato come Sestri Ponente ha una densità di popolazione che è superiore a quella della questura di asti, tanto per capirci. E qui bisogna cercare di capirle queste cose, perché non si può limitare a dire, vabbè, ma tutto sommato gli uomini ci sono o le donne ci sono. Non è così, perché un commissariato come Sestri ha delle competenze vaste dalle volanti, dall'attività investigativa, dall'amministrativa, e quindi non puoi ridurre all'osso... Andrebbe trattato come una questura, insomma, in qualche misura, no? Perché le dimensioni sono quelle lì. Certamente. Noi comunque non vogliamo fare assolutamente ragionamenti demagogici, sappiamo che il problema c'è, quindi bisogna ottimizzare quelle poche risorse e non cercare di mettere, come dire, sempre una pezza a tutto, rincorrendo, perché purtroppo, io di questo ne ho già parlato anche in altra occasione qua da voi, il problema è che è sbagliatissimo rincorrere, no? Chi in questo momento vuole dare su Genova un messaggio politico, perché la politica fa il suo mestiere, no? Un messaggio politico di un certo tipo, cioè di rincorrere con l'aspetto mediatico. Noi lo diciamo sempre. È vero, fa notizia, e giustamente i giornalisti, la stampa, fanno il loro mestiere, ma dare risalto per esempio al sequestro di una piccola quantità di stupefacenti. Sì, in quel momento fa notizia, ma la notizia sta nel fatto che devi fare un'attività di prevenzione, un'attività investigativa, devi lavorare a monte per evitare che poi il piccolo spacciatore poi faccia quello che fa sul territorio. Il problema è questo. Noi abbiamo questo grosso problema, mancanza di pianificazione e sul codice rosso, per andare appunto all'argomento che stiamo trattando, questo è un problema grosso, perché poi entro un po' più nel tecnico di chi se ne occupa nell'ambito di polizia di questo argomento, che è sul territorio, quindi i nove commissariati a Genova sono 7 più 2 nel Tiguglio e la squadra mobile che ha una sezione che si occupa di questo. Ecco, è chiaro, abbiamo un dirigente, la squadra mobile, che ha dovuto fare uno sforzo per poter... lì è stato importante l'intervento del dirigente, perché ha dirottato delle risorse e ha fatto bene per quel tipo di attività, ma questa cosa, per esempio, è impossibile farla sui commissariati, perché vorrebbe dire chiudere e allora altre attività. Quindi anche la scelta di andare a fare delle scelte difficili, ma come si fa in una città come Genova che ha problemi di risorsa a mantenere aperti, per esempio, 7 uffici di nunce in 7 commissariati che sono sul Comune di Genova? Togliamo, per esempio, Chiave e Rapallo, che hanno una loro autonomia, lì c'è il dirigente che ha autorità di PS, quindi è giusto che ci sia. Ma a Genova va a mantenere in 7 commissariati 7 uffici di nunce aperti, 7 uffici amministrativi che gli lasciano i passaporti. Cioè, è chiaro che il cittadino ha bisogno di questi servizi, ma se non c'è il personale... Lei dice che sarebbe meglio utilizzarlo per scopi di polizia e non amministrativi. Bisogna fare una scelta. Chiudiamo con il decreto Minniti, perché ci sono questi patti di sicurezza urbana che vengono firmati, tra l'altro anche col sindaco, il prefetto. Bene. Cosa manca qui? Manca la scelta. Perché Minniti ormai è storia della politica, quindi il fatto che ancora si scusa... No, ma il decreto Minniti, perché è il decreto 2017 che ha fatto lui chiaramente. Però ha firmato lui. Però fu criticato, ma colse un argomento molto importante. C'è sicurezza, c'è problemi di sicurezza e problemi di sicurezza. Il problema della sicurezza urbana affrontata dal decreto Minniti è quello di responsabilizzare il comune, il sindaco, che ha un ruolo importantissimo, firmando quei patti sulla sicurezza, che a Genova non sono mai stati firmati. Perché il sindaco utilizza ampiamente gli strumenti del decreto Minniti. Tutte le ordinanze sindacali, per esempio anti-alcol, tutte quelle che utilizza per reprimere certe situazioni, utilizza il decreto Minniti. Però politicamente non ha mai voluto fare la scelta politica di assumersi una responsabilità, firmando con il prefetto, per far diminuire il degrado sociale che c'è sul territorio. Perché quello non è più un problema di polizia. Perché nel decreto Minniti la polizia e la forza dell'ordine hanno un compito marginale. Infatti sono firmati dal sindaco e prefetto, non dal questore. Noi siamo al tavolo del comitato per ordine della sicurezza pubblica e il sindaco lì dovrebbe essere solamente un consulente. Cosa che a Genova invece si sono un po' ribaltate le regole. Invece questi patti non sono mai stati fatti. So che in municipio a Sestri è stata presentata una petizione per portare avanti questa idea. Io ritengo che Genova abbia bisogno di patti sulla sicurezza perché intanto noi avremo una boccata di respiro rispetto a competenze che non sono nostre. Perché non abbiamo competenze sull'aspetto sociale, urbanistico e in degrado. E nel frattempo il cittadino potrebbe sentirsi più vicino dal punto di vista della società che gli viene incontro. Quindi questa potrebbe essere una passo avanti. Grazie mille Roberto Traverso. Cerchiamo e speriamo. Perché questo è un argomento fortissimo che poi piangere alla morte di una donna o a una donna che subisce violenza è sempre troppo tardi. Bisogna lavorare prima ed è giusto ricordarlo. E grazie per essere stato con noi stasera.